Bene, allora buonasera a tutti. La conferenza di oggi si inserisce nella rassegna Bibliore Encontre oltre la Selva Oscura, che è organizzata dalla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, ed è il quarto appuntamento che segue l'ultimo, che c'è stato il 14 settembre, con il professore Alessandro Barbero. Come saprete ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante. La Biblioteca ha sviluppato il tema della rassegna di quest'anno, ispirandosi alle celebrazioni dantesche, organizzando alcuni appuntamenti dedicati alla sua opera e al suo tempo, ma anche dedicando spazio a chi ha intrapreso e sperimentato umanamente e professionalmente dei percorsi un po' fuori dall'ordinario, superando metaforicamente la Selva Oscura. Le tre relatrici di questa sera ci racconteranno le loro esperienze, molto diverse tra loro, ma accomunate da scelte che le hanno portate lontano dal loro paese di origine, a vivere delle situazioni inusuali che hanno contribuito a migliorare sicuramente la loro prospettiva e visione del mondo e certamente anche ad arricchire la loro personale esperienza. Sono tre donne diverse per formazione, per età, ma anche che hanno in comune il fatto che la loro esperienza di vita è anche qua in Valle d'Aosta. Ed è quindi per conoscerle e cercare un po' di traguardare le cose dal loro punto di vista che questa sera abbiamo invitato Anna Lio e Marzia Verona, che sono qui in sala con noi, e Ezel Alcu, che ci segue in collegamento da Macerata. Anna Lio è valdostana, ha lavorato per anni in Sudafrica, in particolare nella comunità di Cochabamba in Bolivia, dove ha organizzato il lavoro delle donne. Da alcuni anni è tornata qua, in Valle d'Aosta, ma il suo lavoro di coordinamento di progetti di cooperazione internazionale continua anche qui. Marzia Verona è piemontese, ha scelto di vivere in Valle d'Aosta, alterna il lavoro di allevatrice e a quello di scrittrice e di ricerca sulla pastorizia. Trovate i suoi libri in tutte le nostre biblioteche e potete anche seguirla sul blog pascoliestelle.blog.wordpress. Ezel Alcu è di origine kurda, ha un legame speciale con la Valle d'Aosta, dove è arrivata nel 2009 come rifugiata politica e dove ha vissuto anche per tre anni. Ha scritto un libro, dal titolo Senza chiedere il permesso, il mondo bastardo, che racconta la sua storia attraverso raccolte di testi, in prosa, poesie e fotografie. Io ringrazio le relatrici Anna, Marzia ed Ezel per aver accettato il nostro invito. Nel ruolo di moderatrice ci sarà Marcella Olmedo, che conosce molto bene la Valle d'Aosta, avendo lavorato in diversi progetti europei ed essendo anche un po' valdostana di adozione. Attualmente è professore associato per educazione a distanza nella Open University del Regno Unito, dove insegna ambiente e società e gestione dell'ambiente. Ringrazio anche Marcella per aver accettato l'invito a condurre questa serata e le passo la parola. Buonasera, buonasera a tutti. Saluto anche Ezel. Mi vedi Ezel? Mi vedi Ezel? Ah, perfetto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, grazie dell'invito, grazie della presentazione. Sono onorata perché per vari motivi di lavoro ho conosciuto tramite i miei studi sia il lavoro di Anna che di Marzia. Poi trovarmi che erano gli ospiti a cui dovevo presentare è stato veramente un onore. di Ezel non conoscevo, avevo sentito per questione così di immigrazione, perché anch'io sono immigrata due volte, una in Inghilterra poi in Italia, e quindi avevo sentito ma non avevo proprio letto i suoi lavori, quindi affascinata adesso di sapere un po' di più. Quindi stasera si parlerà di tre percorsi poco comuni, come avete letto nella locandina, e di percorsi individuali che si scostano dall'ordinario, dice la locandina. E quindi, in collegamento con la Divina Comedia, con la Selva Oscura in particolare, parleremo questa sera di scelte, di buio e di trasformazione. Quindi due, tre grandi, potenti argomenti. E quindi farò le domande, così ciascuna di voi ci raccontate. Iniziamo con Marzia, poi Ezel e poi Anna. E vi chiedo di raccontarci come è avvenuta la tua scelta, Marzia, di lavorare e scrivere sull'allevamento. Non è proprio stata una scelta, è stato un cammino, sì, un cammino progressivo che man mano mi ha portato a percorrere delle strade. Io sono laureata in scienze forestali e ambientali, mi è sempre piaciuto andare in montagna, fare escursioni, fin da bambina ci andavo con i miei genitori, e forse è stato anche quello che mi ha portato a scegliere quel cammino negli studi, quindi un qualcosa che mi permettesse di rimanere in montagna e all'aperto, anche se io non provengo da un paese di montagna, però la montagna è sempre stato forse il mio ambiente ideale. Vengo però da una realtà rurale, quello sicuro. Non riuscirei a vivere in città, sicuramente quel percorso non è il mio, devo uscire e stare il più possibile all'aria aperta. Con la tesi di laurea ho fatto una tesi sui pascoli, sulla vegetazione soprattutto, però mi è sempre piaciuto incontrare le persone e soprattutto sentire quello che avevano da dire, e quindi capire meglio il territorio attraverso le parole delle persone, quindi più un lavoro da antropologo che non da tecnico, come sarebbe dovuto essere il mio percorso dopo gli studi. E così è successo che durante un lavoro di censimento degli alpeggi per conto della regione Piemonte, io sapevo già ovviamente che c'erano persone che d'estate insieme ai loro animali passavano tutti i mesi estivi in montagna con i loro animali per far sì che potessero alimentarsi nei pascoli e produrre formaggi e non solo. Ho però scoperto che esistevano dei pastori nomadi che mi hanno detto appunto che nel momento in cui ho fatto la domanda qual è la sede invernale dei vostri animali, mi hanno detto stiamo tutto l'anno all'aperto, facciamo il pascolo vagante, che vuole dire una transumanza continua, non portare l'alimento agli animali, quindi il fieno installa per nutrire le pecore in questo caso, ma portare le pecore dove c'era qualcosa da pascolare. E questo mi ha affascinato, questo grande senso di libertà. Poi dopo una volta che sono entrata io stessa all'interno di questo mondo ho scoperto che era una libertà relativa perché in realtà eri sempre vincolato dai tuoi animali. Il lavoro con gli animali comunque che sia così all'aperto, che sia stanziale è comunque un lavoro strettamente vincolante. Deve piacere, deve esserci quella che chiamano la grande passione perché altrimenti uno non lo fa. A me dicevano che avevo preso la malattia, la malattia voleva dire appunto essersi appassionati a questo mondo, per un po' come dicevo è stato il mio. Poi la vita ha portato a dover fare altre scelte, in parte volute, in parte perché sono successe così. E adesso sono in Val d'Aosta, ormai da qualche anno. Il mio compagno è un'azienda agricola, alleva una piccola azienda di montagna, alleva capre, che è il motivo per cui ci siamo conosciuti, e anche delle bovine. E io adesso aiuto lui e poi cerco di continuare anche a fare qualche altra attività, soprattutto scrivere, quando c'è tempo, perché gli animali impegnano. Comunque quando sono al pascolo delle capre cerco di scrivere, continuare a scrivere i miei libri. E questa è molto sinteticamente la mia storia, che appunto non è stata una vera e propria scelta, ma sono stati dei momenti che mi hanno così affascinata durante il mio cammino, e mi hanno portata a indirizzare la mia strada per questo percorso. Etzel, ci sei? Sì, sì, sì. Grazie Marzia. Si sente bene? Ci senti bene? Sì, mi sento bene, mi sento bene. Etzel, raccontaci come è avvenuta la tua scelta, la tua lotta per e con il popolo kurdo. Allora, prima di iniziare chiedo perdono a tutti quanti che hanno organizzato questa serata, soprattutto i tecnici e organizzatori, perché sono, se parola giusta, miei colleghierei a compagna, sono una capra a capire la tecnologia, quindi ho messo in difficoltà tutti quanti. Io non credo la scelta, questa non è stata la mia scelta, sono nata in quel territorio, con quella etnia che mi hanno identificato, nascendo in quel territorio mi sono trovata a partecipare a questa lotta, perché poi la lotta diventa la vita, la vita tua. Quindi nella vita generale io non credo che noi abbiamo una scelta libera che facciamo, siamo condizionati da qualsiasi cosa e circostanze, perciò io sono nata in un territorio dove ero condizionato a diventare qualcosa, per forza qualcosa. E io ho scelto la strada giusta, non c'è nessun impianti, non mi sono pentita, e tornando indietro lo farei stessa cosa, perché questo non vuol dire che se anche una scelta condizionata io non avrei voluto fare, forse avrei fatto stessa cosa, e se torno oggi indietro lo farei stessa cosa. Quindi io sulla domanda di scelta in realtà non so risponderla, perché penso molto più diverso, ognuno di noi siamo condizionati da qualcosa. Io sono nata in una famiglia con dieci figli, sono ottava di una famiglia, di cui dove erano già partigiani, i miei sorelle, i miei fratelli, il mio padre, sono cresciuta in una casa dove la lotta esisteva dentro casa, tutte la mattina, alle 5 di mattina, se mi alzo con i sbirri, irriuzione dentro casa, la scelta non è molto libera, la scelta è molto condizionata dalla circostanza. Però sono molto fortunata, mi tengo che sono molto fortunata di nascere in questo territorio, di conoscere questa lotta, questo movimento, che mi ha portato ad oggi, a quello che sono oggi. Posso dire questo per non rubare troppo tempo sulla domanda di scelta. Bene, Etzel, sicuramente tutti abbiamo tante domande da farti, comunque è una serata bel piena, perché abbiamo delle vite e delle esperienze molto molto interessanti per crescere, sono delle opportunità. Passiamo a Anna, hai voglia? Anzi, per raccontarci il tuo lavoro di cooperazione. Allora, io premetto che la scelta non l'ho fatta da sola, perché siamo partiti come famiglia. Inizialmente no, siamo partiti solo io, Aurelio. Se si può parlare di scelta in quel periodo, perché parliamo dell'83, la prima volta che siamo partiti, siamo partiti in Brasile, in Amazzonia, e in quel periodo lì eravamo dopo la rivoluzione del Nicaragua e quindi c'era tutto un fermento in Italia che seguivano questi nuovi paesi dell'America Latina che sperimentavano pienamente l'uscita da lunghe dittature. Eravamo un po' affascinati e ci piaceva l'idea di andare a vivere un po' di tempo in Nicaragua insieme ai contadini, perché la nostra provenienza comunque è contadina, almeno la mia, ma anche quella di Aurelio. Quindi l'idea di andare a condividere un po' di tempo con loro. Prima di partire dovevamo fare un corso di preparazione. Noi siamo partiti con il Mlal, il Movimento Laici America Latina, allora si chiamava così, adesso si chiama Progetto Mondo. e quando eravamo a fare il corso di preparazione la Presidente ci chiama e ci dice per domani dovreste darci una risposta perché abbiamo bisogno assolutamente di due volontari che vadano in Amazzonia. Noi non ce l'aspettavamo anche perché il Nicaragua, i contadini, le loro lotte magari c'erano un po' più vicine, invece il fatto di andare in Amazzonia poi non l'avevamo mai messa nei nostri orizzonti. Comunque ci abbiamo pensato un po', abbiamo detto che accettiamo. siamo partiti nell'84 e siamo rimasti allora solo un anno perché era l'ultimo anno della dittatura in Brasile. La dittatura in Brasile è durata 20 anni dalle 64 all'85 quindi non riuscivamo ad avere il visto per rimanere in quel paese. Siamo rimasti un po' come turisti anche se abbiamo lavorato insieme ai contadini di là che sono tutto un'altra ovviamente in Amazzonia non è il Nicaragua ma meno ancora la Valle d'Aosta e quindi eravamo proprio piombati in un mondo tutto diverso che però ci ha molto arricchito e ci ha aperto gli orizzonti. Ci sono state varie tappe in questa scelta come dicevano Marcella la scelta stessa definisce la scelta, no? Il cammino nella scelta definisce le tue scelte e quindi siamo ritornate in Valle d'Aosta comunque volevo anche sottolineare che per noi non erano delle parentesi queste di andare in America Latina e di condividere qualcosa con i popoli di là ma c'è sempre stato un filo che ha accomunato un po' le nostre scelte anche qui in Valle d'Aosta che sono sempre state scelte nel campo del sociale nel condividere con gli altri nel fare dei percorsi con la gente, no? poi quindi siamo rimasti ancora un po' qui e c'è di nuovo nata l'idea di ripartire e siamo partiti di nuovo in Amazzonia per altri 8-9 anni dove siamo partiti già con il primo figlio che aveva un anno e lì è nata la seconda figlia, Cristina e con loro siamo ritornati in Valle d'Aosta ricordo che quando siamo partiti con il primo figlio tutti, ma siete matti, ma dove andate? ma l'ho portato in Amazzonia l'uccidete anche perché le lotte in Amazzonia che non so se conoscete un po' quella storia lì comunque l'Amazzonia è una lotta dove poi eravamo andati a finire noi che era lo stato del Parà era una lotta continua tra il Fasendero e il Colono cioè per il diritto alla terra e quindi non è che siamo stati cioè dagli amici sì però credo dall'opinione pubblica come chi fa delle scelte un po' pazze ecco comunque siamo andati siamo ritornati ancora con queste due figlie la terza volta che siamo ripartiti dove siamo rimasti molto di più è stata la Bolivia e la Bolivia è certamente ha molto più in comune perché la Bolivia è un po' chiamata anche il Tibet dell'America Latina perché ha montagne altissime dove noi siamo andati a vivere era una città intermedia però era a 3.000 metri Cochabamba ci siamo poi spostati alla Pasche quasi a 4.000 però si andava anche a lavorare a 5.000 metri comunque è stata un'esperienza assolutamente questo di guardare altrove questo è il fatto di guardare altrove e guardare la vita degli altri ci ha veramente arricchiti credo che se guardiamo se tiriamo un po' le somme magari abbiamo ricevuto di più di quanto abbiamo dato continuo a scrivere a imparare a prendere nota grazie Anna c'è ancora? perfetto pensiamo al buio della selva oscura della Divina Commedia e pensiamo al buio come ostacoli come difficoltà questa è la seconda domanda torniamo a Marzia Marzia al giorno d'oggi quando tu ripensi alle tappe più difficili a quegli ostacoli a quelle difficoltà che hai trovato ti senti soddisfatta contenta diciamo di come hai preso delle decisioni o delle svolte che hai fatto? ma rispetto alle storie che sto ascoltando il mio è un cammino sicuramente liscio è privo di grossi scossoni e di grosse difficoltà perché sicuramente parliamo la mia storia è completamente diversa da quella delle mie compagne di questa sera però certo se uno vuol fare una scelta che porta a lavorare in montagna a lavorare con gli animali sicuramente degli ostacoli ci sono e soprattutto ci sono se uno viene da una realtà diversa se non è nato in questo in questo mondo infatti quando qualcuno mi chiede succede spesso che qualcuno mi mi chieda vorrei andare vorrei iniziare a tenere degli animali vorrei fare un'attività con gli animali mi chiedo dei consigli e io la prima cosa che dico sono tutti gli aspetti negativi perché prima è meglio considerare quelli perché quelli eccessivamente bucolici romantici sono quelli che sono negli occhi di tutti quindi ah che bello sei in montagna con le caprette al pascolo hai di ed è tutto ed è tutto semplice e sono anche le immagini che quando viene qualcuno è già capitato che è venuto qualcuno ad intervistarmi a fare delle riprese vengono sempre nella bella giornata di sole si cerca il posto più scenografico per fare queste riprese e però tutti continuano a avere questa immagine così romantica e pittoresca cosa possono essere gli aspetti gli aspetti bui beh un qualcosa che che mi spaventa che mi ha sempre spaventato man mano che ho capito meglio il mondo dell'allevamento potrebbe essere per esempio la malattia mia o di qualcuno a cui voglio a cui voglio bene perché gli animali hanno bisogno di te sempre hanno bisogno per il pascolo per l'alimentazione quotidiana per tutte devono essere seguiti non ci si può allontanare va già bene nel nostro caso avendo gli animali in una sede fissa con una stalla ti puoi allontanare qualche ora però se dovessi essere altrove per prendermi cura di qualcuno dei miei cari che non stanno bene o se io stessa avessi dei problemi di salute come si fa in quel momento ed è sempre un'idea che per carità sono ancora fortunatamente giovane però penso a volte per esempio appunto se dovessi farlo dovessi allontanarmi come faccio questo potrebbe essere già una problematica poi altri problemi così più leggeri ma comunque pesanti per chi fa l'attività agricola sono tutti quelli legati alla burocrazia certo è un qualcosa che sentiamo nominare spesso però mi è venuto da sorridere anche solo per venire qua questa sera quanti fogli ho dovuto compilare per me è una cosa fuori dal mondo è una cosa veramente che va oltre le mie capacità di comprensione pur avendo fatto un percorso di studi quindi avendo compilato tanta carta in passato però ci stiamo complicando sempre di più la vita e quindi a chi vuole fare questo mestiere perché vuole scappare da quello che è la quotidianità di un ufficio della città dico sempre non pensate di lasciarvi alle spalle la burocrazia anzi ce ne sarà tantissima e complicherà anche i lavori più semplici mentre invece il lavoro dell'allevatore è regolato dalle necessità degli animali dallo scorrere delle stagioni dalle ore di sole e le ore di notte e invece no tante volte bisogna passare una giornata intera negli uffici quando invece hai tutte altre cose da fare e questo è una cosa molto buia per chi fa un mestiere invece all'aria aperta così bello e romantico in alcuni momenti dover invece soccombere sotto il peso di mille di mille scartoffie sono cose leggere ma nel momento in cui uno c'è dentro sono delle complicazioni mi sarebbe tanto di parlare sulla burocrazia e come ci destoppiamo di solito nella nostra vita tutti e Zell avrei una domanda la stessa domanda per te sulle tue difficoltà e i tuoi ostacoli e come quando ripensi a alcuni di questi momenti se vuoi darci qualche esempio io avevo una sottodomanda per te per questa domanda mi sono chiesta tante volte quando ho letto la tua storia quell'atto a 13 anni di aver attaccato un poliziotto correggimi se si sbaglio per difendere il tuo fratello e che ti ha costato la condanna dell'ergastolo è una domanda un po' delicata non devi risponderla però tornando a queste difficoltà le cose che tu pensi indietro sei contenta sei soddisfatta tu hai parlato tanto del sacrificio e del buio della difficoltà come l'hai trovata prego io ringrazio io ringrazio a tanto a quella bambina di 13 anni che ha reagito in quel modo perché se sono donna di oggi grazie a quella bambina e la sua rabbia perché anche con loro era solo una bambina senza difesa ha reagito quello che l'ha visto e lo ringrazio anche molto ironicamente al governo turco stesso perché quando mi ha staccata dalla società mi ha messa in carcere in realtà io non conoscevo non sapevo quello che sta accadendo anche su me stessa perché carcere nella mia mente o nel mio mondo di 13 anni non esisteva non so con che parola posso spiegarla questo esperienza perché tutto era un gioco tutto era un gioco perché continuavo e continuato a giocare anche in carcere perché non mi rendevo conto della realtà e forse oggi ho più paura di carcere perché quando siamo piccoli non abbiamo le paure quindi carcere non mi faceva paura e quando a 14 anni sono uscito da carcere in realtà il gastro mi è arrivata per dopo ho deciso di essere una partigiana perché l'ho conosciuto la mia realtà l'ho conosciuto la mia identità ho imparato la mia madrelingua nelle carcere turche delle compagnie kurde mi hanno preso la cura e soprattutto innanzitutto io l'ho conosciuto la mia identità di essere donna nelle carcere turche perché io ero un bambino maschiaccio mi vestivo da maschio avevo capelli cortissimi perché essere un maschio in quella società anche qui senza togliere il valore anche l'occidente nel maschilismo essere un maschio in una società del sistema è molto più comodo potevo andare ovunque potevo uscire nel buio nessuno nessuno non mi diceva niente quindi potevo difendermi sotto la maschera di un maschio camufulandomi con i vestiti di maschio comportandomi come un maschio mi sentivo più libera quando ho capito io da donna sono molto più libera molto più forte e non devo essere per forza una principessa infatti non sono mai stata una principessa tantomeno per essere libera non avevo bisogno di essere un maschiaccio quindi io lo ringrazio a quel bambina che a quell'ora ha reagito in quel modo e che mi ha portato ad oggi perché ogni nostro comportamento ha un conseguenza e io sono molto fiera di questo conseguenza e sono molto contenta che sono stata una bambina testarda che andava contro di tutti perché è stata quella bambina a portarmi oggi parlando del buio ovvio come tutti gli altri ho avuto i momenti di buio di disperazioni e soprattutto a 15 anni ho avuto un buio totale quando hanno sparato a un mio amico che ho perso lì e che è stata una cosa che l'ho accettato da poco da pochissimo tempo ho accettato che lui è mancato perché l'ho visto e l'ho sentito per la prima volta il temperatura è l'odore la puzza di sangue sul mio dosso otto mesi sono stata con i vestiti di sangue non mi sono lavata non mi sono pettinata sono rimasta con i vestiti di sangue non ho più mangiato niente non ho più parlato con nessuno dopo otto mesi non so cosa è successo qualcosa dentro di me si è staccato di me e mi ha dato un schiaffo fortissimo non per dire con la parola veramente fisicamente il mio mano sinistra mi ha dato un bel schiaffo di cui mi sono fatto gonfiare l'occhio dicendomi basta stai facendo quello che vogliono loro alcuni muoiono gli altri diventano come te i giovani si sbriciolano e hanno risolto il problema devo essere più forte dal loro dolore che mi stanno trasmettendo con quel schiavo mi sono ripresa sono tornata quel giorno a casa la prima volta dopo otto mesi quando ho detto a mamma che volevo fare doccia lei si è messa a piangere perché quando loro cercavano di parlarmi io sbattevo tutto per terra facevo il casino solo urlando senza nessuna risposta e tutti erano convinti che ormai io ero infazzita non c'era più un recupero per me quando ho detto a mamma che volevo fare doccia mi sono resa conto in realtà quanto male ho fatto anche mia mamma che non c'entrava niente di tutta questa guerra non era colpa sua e l'ho fatto pagare a lei quello è stato diciamo il mio periodo buio il mio periodo che ha portato via qualcosa di me tuttora vedendo un'immagine sentendo un odore ho un cammino che assomiglia al suo mi porta a quell'ora nonostante questo però sono fiera anche di questa cosa perché anche questa mi ha dato la forza oggi io sono molto tranquilla a dire la morte è per noi un gioco un gioco un gioco la guerra un gioco noi kurdi giochiamo mosca cieca con la morte perché l'ho superato un grandissima paura la paura di morte l'ho superato è così che ho potuto combattere è tuttora così che riesco a combattere però posso dire che il momento più buio della mia vita questo è capitato poi dici cosa può capitarmi più di questo perché ormai cosa può capitare però invece capita tante altre cose ti fa stare male molto di più quel momento magari non ti rendi conto poi ti rendi conto che avevi avuto un dolore molto di più di questa quindi ti dai coraggio ti dai autocoraggio io almeno faccio questo dopo quello non poteva capitarmi niente avevo superato il mondo io dopo quella cosa però il giorno che sono dovuto partire e lasciare la casa mia e venire in Valle d'Aosta non mi dimenticherò mai quella mattina che mi sono alzata ero arrivata qui tutto con le canottiere pantaloncini l'estate il 25 maggio e apro gli occhi apro le porte vedo gli alpi pieno di neve perché ero viaggiato pure la notte ero arrivata a Milano da Milano a Aosta ero dormito e la mattina quando l'ho visto sono rimasta scioccata e quindi è stata in un momento più forte di quel dolore perché è stata l'obbligo di rinascere rinascere del ceneri perché 19 anni di vita era fallita o piuttosto era finita dovevo imparare una lingua nuova una cultura nuova dovevo conoscere il territorio di cui sto perché mi sentivo anche in pericolo perché non conoscevo la geografia di questo paese e quindi è stata una rinascita poi l'ho detto ancora ok superato di questo cosa può accadere però è accaduto quindi io non credo un momento di buio non esiste può essere qualsiasi altro momento perché dopo iniziata la guerra in Siria sono ritornato indietro io tra tutte queste cose ho dovuto dare la mia sangue a donare la mia sangue a un mio nemico perché stava in ospedale e quel momento non veniva chiamata il nemico era un ferito che aveva bisogno di cura ma magari cinque minuti fa sparava sparava ai miei compagni e donare il sangue a lui a salvare la vita era un momento buissimo cioè la guerra stava dentro testa mia di quello che stavo facendo contro la mia ideologia ma doveva vincere la mia ideologia perché era un ferito aveva bisogno di aiuto quindi io non so definire un momento di buio nella vita può accadere io mi sono arreso a confronto di questa cosa perché dopo la prima volta che dici più di questo non può succedere niente però vedi crescendo succedono le cose diverse man mano più grosso alcune volte più semplice la cosa più brutta è andare a contraddizione con te stessa questo posso dire che è il punto forte grazie Ezze continuo a pensare mentre ascolto il potere della trasformazione negli esseri umani interessante e forte Anna cosa ci dice dei momenti bui degli ostacoli che avete percorso come quando guardi indietro cosa cosa ci puoi raccontare di come avete preso certe decisioni o determinazioni come dicevo prima la scelta nostra è stata di famiglia e questo lo voglio un po' sottolineare perché credo che anche con i figli noi abbiamo passato dei bei momenti e credo che sia stata un'opportunità per tutti di vivere un modo di famiglia diverso di avere un po' gli occhi di qua e di là e di capire un po' le due realtà perché ovviamente i nostri figli hanno conosciuto poco della Valle d'Aosta perché sono stati quasi via tutto il tempo diciamo dalla loro gioventù e fino a laurearsi e quindi quella parte lì che fa molto parte delle radici magari non l'hanno vissuto come i ragazzi che sono rimasti qua però credo che tutto questo cammino ci abbia veramente arricchiti e ci abbia allargato un po' gli orizzonti certo che ci sono stati dei momenti bui ma non lo so se chiamarli bui il buio che io ho sentito è un po' l'impotenza di fronte alla mancanza di diritti che vedevamo alle mancanze di ingiustizia che ci sono anche quelle che racconta Ezel ovviamente non con questa crudeltà perché ormai eravamo usciti dal periodo della dittatura però di sentirci un po' piccoli 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 di fronte alle ingiustizie alla mancanza di giustizia o la mancanza dei diritti delle persone io direi che la questione dei diritti e della giustizia è stata un po' il filo il filo rouge come si dice che ha unito tutti i nostri progetti perché ne abbiamo fatti veramente tanti e con tante categorie diverse se ritorniamo in Amazzonia abbiamo lavorato appunto con i colonos e i colonos erano delle persone che erano del sud del Brasile che erano stati strappati dai loro luoghi e portati in Amazzonia perché i militari dicevano portiamo gente che non ha terra in una terra che non ha gente pensando che l'Amazzonia non avesse gente invece penso che tutti sappiamo che l'Amazzonia c'è gli indios e quindi anche loro hanno dovuto ricominciare la vita e noi affianco a loro ci siamo messi a camminare con loro e c'è una canzone che che si cantava insieme a loro che mi piace ricordare il ritornello che diceva dobbiamo costruire un bel luogo per vivere perché il luogo era terribile immaginatevi di trovarvi davanti perché questi contadini sono stati messi così davanti alla foresta adesso voi qui ricominciate la vita e quindi i momenti voi sono questi che ti senti piccolo piccolo impotente e in Bolivia abbiamo lavorato invece con tantissime altre categorie con i coltivatori di grano gli allevatori delle mucche che quindi abbiamo fatto le latterie il latte eccetera il yogurt i formaggi i coltivatori di uva quindi con loro il vino cioè abbiamo sempre abbiamo sempre lavorato la materia prima con tutti quelli con cui abbiamo lavorato fino ad avere fare tutta la filiera e a portare il prodotto al mercato però con questo filo di fondo che è dare diritto a chi diritto non ha perché anche in Bolivia noi lavoravamo con i popoli indigeni che sono nelle valli sono i Chiecioa e nell'alto piano sono gli Aymara abbiamo lavorato solo con queste due anche se la Bolivia ha 36 popoli riconosciuti dalla Costituzione quindi ci sono con le loro lingue e le loro culture in Bolivia per noi il momento buio magari è stato quello di avvicinarsi a un mondo totalmente diverso da quello che venivamo qui in Italia in Valle d'Aosta in Amazzonia perché i popoli indigeni sono un popolo che devi viverci insieme per capirlo un po' di più devi viverci tanto tempo perché ci sono gli immensi altopiano queste imponenti montagne eccetera eccetera il silenzio quindi bisogna andarci un po' con i i punti di piedi per capire un po' una cultura e una realtà molto diversa dalla nostra che però ci ha arricchite e ci ha aperto un mondo vasto come è vasto il loro il loro altipiano grazie Anna abbiamo l'ultima domanda e poi alcune riflessioni insieme con la sala Marzia in che modo la Valle d'Aosta ha influito in questa scelta in questa trasformazione in questo cammino ma non c'è una vera risposta a questa domanda perché è andata così è capitato così e sono arrivata qui non da lontano perché appunto vengo soltanto dal Piemonte sicuramente la Valle d'Aosta essendo una regione interamente montuosa diciamo che si addice a quelle che sono le mie caratteristiche a ciò che che mi piace anche dove mi piace vivere perché appunto ho detto prima che non mi piaceva vivere in città diciamo che Aosta forse è una delle poche città dove anche se ci vengono non mi traumatizza così tanto è un grosso paese possiamo dire se mi permettete di fare un piccolo passo indietro ancora al buio al discorso del buio c'è una cosa che non ho detto sicuramente un momento buio è quando ti trovi davanti a un animale uno dei tuoi animali che non sta bene e che non sai come fare a curarlo purtroppo molte volte gli allevatori sono additati per il motivo che allevano e poi ovviamente gli animali sono deputati a essere la nostra fonte di reddito e quindi in qualche modo si utilizza tutto di loro però vivono con noi fanno un percorso con noi soprattutto in dei piccoli allevamenti come i nostri quelli di montagna e quindi quando c'è uno dei tuoi animali che non sta bene e che neanche il veterinario sa come fare a curare o comunque ti dice che non non c'è una cura quelli sono sicuramente i momenti più più bui del nostro mestiere tornando invece alla Valle d'Aosta sono contenta di essere qui torno frequentemente anche in in Piemonte diciamo che sono più un abitante delle Alpi senza guardare i confini sicuramente geografici di regioni o anche nazionali confini anche nelle trasformazioni ci sono anche i confini che determinano un po' anche il cammino Ezel tu hai già un po' anticipato il tuo entrare in Valle d'Aosta vuoi raccontarci che cosa come ha influito come ha condizionato diciamo il tuo cammino la Valle d'Aosta allora io sicuramente definisco l'ho detto sempre che Valle d'Aosta è stata una seconda casa per me grazie quell'ora un circolo di arci di Esfas Populair che mi ha aiutato dove ho imparato una nuova lingua di cui mi permette di portare avanti anche la mia lotta dove ho imparato un sacco di gente bella che tuttora mi accompagnano nella mia vita nel mio cammino e non so Valle d'Aosta è stata il rifugio come quegli uccellini immigrati che volano poi fanno una pausa in un posto per riposarsi poi per continuare ad arrivare dove vogliono Valle d'Aosta è stata così io ho volato da casa mia avevo bisogno di un rifugio Valle d'Aosta è stato il mio rifugio per un periodo dove mi ha dato la forza di rinascita perché quando arrivi in un posto sconosciuto come fosse se un bambino appena nato hai bisogno di imparare imparare tutto imparare la lingua non parli come un bambino non parli inizi fa i frasi le sillabe poi cominci a conoscere i posti quindi cominci ad andare a quattro gatti e pian piano ti rialzi i piedi e quando ho imparato a correre ho deciso di andare in Val di Susa quindi Valle d'Aosta è stata la mia seconda casa però purtroppo questa seconda casa non corrispondeva la mia necessità della vita il Valle d'Aosta per me è importante perché ovunque vado ovunque sto io in Italia ho un posto sicuro che conosco come casa quindi ho sempre un posto da tornare e questo mi dà un po' di sicurezza e poi dopo Valle d'Aosta sicuramente quello che anche mi riempie più energia è Val di Susa quindi sono diciamo in un passaggio di cui mi sto radicando a questo in questo paese perché io mi definisco sempre un orfano un orfano di guerra nonostante che ho i genitori però lontani e non riesco a vederla da più di ora sette anni e quindi ho dovuto un po' arrangiarmi nella vita perché non c'ho nessuno in questo paese e quindi ogni posto che vado prendo il tesoro di questo posto e Valle d'Aosta è stato il primo posto che mi ha accolto mi ha abbracciato e mi ha dato una nuova vita una nuova opportunità per poter iniziare a correre perché quando ero arrivata in Valle d'Aosta io non sapevo a salutare una persona o chiedere un bicchiere di acqua a una persona questi sono bisogni primari della vita e io ero ero come una bambina appena nata a 19 anni quindi Aosta mi ha aiutata a rinascere questa è l'importanza di Valle d'Aosta per me grazie Etzel Anna da Valdostana come ti ha influenzato la Valle d'Aosta l'ho già detto un po' prima che la partenza non è stata una rottura ma è stata una continuazione anche perché gli ultimi anni vissuti in Bolivia che sono stati circa 18 direi che abbiamo potuto vivere molto un'analogia tra Alpi e Ande la montagna c'è di qua e di là anche se di là è vissuta in una maniera diversa ma comunque il fatto di avere delle radici e di un luogo di montagna mi ha aiutato moltissimo a capire quegli ambienti gli ambienti dei contadini perché vedendo dei contadini e degli indigeni perché vedendo la loro vita mi richiamava tantissimo quando io piccola perché sono degli anni 50 quindi ho vissuto anche diciamo così tutta quella parte ancora che non è più la Valle d'Aosta di adesso ovvio che quando siamo ritornati anche noi abbiamo fatto un po' di fatica a ritrovarci perché sono cambiati tanti riferimenti è cambiata la stessa cooperazione il stesso modo di fare progetti non sono più i progetti di quando siamo partiti per l'Amazzonia sono progetti molto più impegnati dove devi coniugare la parte gestionale e la parte poi di risultati eccetera eccetera però il fatto di avere avuto delle radici qua sinceramente ci ha aiutato tantissimo a capire di più la gente di là e a fare un cammino con loro ok abbiamo stavo guardando l'ora e stavo avremo tante domande però la cosa che mi interessava era probabilmente come me mentre ascoltavate stavate pensando nelle nostre scelte anche se non abbiamo un progetto o uno scopo un obiettivo invece ce l'abbiamo solo che non so a volte ho scritto da qualche parte credo che l'ha detto Marzia quello del relativizzarsi cioè lei ascoltava altre storie e se domandava su se stessa e penso che ci capita a tutti e mi piacerebbe sapere mentre avete ascoltato staserata le esperienze le storie che cosa vi ha vi ha toccato vi ha fatto riflettere pensare al proprio percorso tutti abbiamo passato qualche buio purtroppo tutti siamo cresciuti tutti siamo andati indietro quando pensavamo di stare andando avanti a volte all'incontrario qualcuno ha voglia di fare domande includendo le presentatrici alle altre presentatrici se vogliono fare domande che vi piacerebbe raccontare che cosa ha pensato mentre ascoltava i vostri percorsi vi ripeto le domande a voi c'è stata qualche qualche scelta che avete dovuto fare nella vita avete avuto dei bui che avete dovuto risolvere oppure se risolto oppure a volte non so se vi è capitato di rendervi conto dopo che avete fatto certe cose a me è successo anni dopo di aver detto ma io ho fatto quello a volte è bello a volte è brutto dipende però c'è questa cosa che facciamo penso gli umani di relativizzarci con noi stessi voi avete qualche domanda perplessità volete condividere qualcosa con con le presentatrici Ezzel ci sei mi hai sentito e si ascolto perfetto a chi gli piacerebbe dire qualcosa allora con covid mi hanno detto quando avete delle domande voi la dite a voce senza microfono e io la ripeto così la sentono tutti anche Ezzel che non può sentire la vostra voce senza microfono sì diceva una una persona del pubblico in sala dal punto di vista di donna di donne come donne quanto come in che grado ha influenzato parlava di te in particolare il fatto di nella tua cultura essere donna come sono state queste scelte questi bui per il fatto tu hai già anticipato qualcosa quando hai detto che te vestivi e ti comportavi da maschio da maschietta maschiaccio hai detto perché ti facilitava cioè ti rendevi conto che essere maschio nella tua cultura ti facilitava libertà forza eccetera dice che ha capito che le donne kurde hanno comunque superato il patriarcato che comunque siete molto più diciamo aperte adattate eccetera quindi torniamo alla domanda come donna c'è stato qualcosa Marzia Anna che è stato diverso abbiamo un po' parlato una volta quando dicevamo io ho fatto questa domanda nel mio documentario dell'allevatrice in Valle d'Aosta e lo stesso fare l'allevamento al femminile certe cose sono state facilitate difficoltate per il fatto di essere state donne io più che sulla mia esperienza personale posso pensare a donne allevatrici che ho intervistato per i miei libri per esempio mi è capitato di intervistare in zone diverse allevatrici di capre che mi hanno raccontato della loro esperienza personale di essere partite in coppia aver fatto un cambio di vita insieme al loro compagno dalla città essersi spostate in montagna per appunto decidere di allevare delle capre alcune di loro appunto mi hanno raccontato come la storia la loro storia di vita ha portato una separazione dal loro compagno perché magari prima si andava in montagna ma si andava in montagna per fare scialpinismo per fare alpinismo per fare delle escursioni e poi la montagna si vedeva solo più mi ricordo proprio la frase che mi aveva detto una di queste allevatrici la vedevamo solo più dalla finestra della stalla e loro ormai avevano instaurato un legame così forte con gli animali da decidere che quella ormai era la loro vita forse da donna il legame che si instaura con l'animale è quasi un legame materno quindi per quello era più più forte mentre invece l'uomo non ce l'ha fatta e appunto se n'è andato ma la donna è rimasta insieme agli animali a mandare avanti l'azienda mi ricordo almeno tre casi di sicuro di donne che mi hanno raccontato questa storia in diverse zone d'Italia e quindi è stato un valore in più essere donna in questo caso non una difficoltà poi certo in altri momenti succede che questo invece sia una problematica proprio all'inizio di quest'anno mi ero fatta promotrice di un flash mob online in occasione della tragica morte dell'allevatrice Agitu che è successa in Trentino che è stata assassinata e allora avevamo lanciato appunto questo flash mob Donne Forti in cui tutte le donne del settore rurale ma soprattutto allevatrici avevano messo online una loro foto una loro storia e si erano uniti anche molti uomini mariti fratelli compagni figli che parlavano della donna forte nella loro famiglia perché essere donna essere allevatrice vuol dire essere svolgere un lavoro ma essere anche madre essere casalinga talvolta dover sostituire l'uomo perché magari l'uomo che va si allontana per qualche motivo la donna invece continuava a rimanere a casa a portare avanti l'attività poi qui il discorso sarebbe molto complesso perché appunto molto variegato tu Marcella hai avuto modo di incontrare molte donne allevatrici come mi dicevi a volte le risposte in privato erano diverse da quelle date in pubblico insieme al loro compagno quindi come in tutti i settori ci possono essere dei momenti difficili perché si è donna e altri invece in cui si ha una forza in più Ezzel cosa ne pensi? Se ho capito la domanda bene la difficoltà che abbiamo trovato con l'identità di essere donna? Sì Vero? Sì Sì Ok A 13 anni forse a quel periodo di quando non conoscevo la forza di essere donna soprattutto forza di essere una piccola donna kurda quando non conoscevo questa forza in una stazione quando ero in caserma c'era un poliziotto che mi stava minacciando chiedendo nome dei altri miei amici compagni di cui io non sapevo risponderla insisteva insisteva su questi nomi allora lui perché mi vedeva che ero vestito da maschio e quindi lo sapeva il mio tabù era il mio corpo ha cominciato di minacciarmi di togliermi il vestito e mi diceva di parlare altrimenti mi avrebbe fatto diventare nudo lì in realtà è nata la prima volta la donna forte che c'ho dentro perché perché io mi chiudevo lui si avvicinava di più io mi chiudevo lui cercava di toccarmi i miei seni che non c'erano ancora quell'ora allora in certo punto questa è la pazzia che dice a mamma perché mamma dice sempre che sono nata ubriaca nonostante che io non bevo però c'ho gesti esegiarati alcune volte no allora ho preso la maglia che avevo addosso e mi sono tolto da sola dicendoli urlandoli fammi quello che vuoi non so dirti e lì è nata questa donna e lì in realtà ho capito il coraggio e la forza delle donne kurde e il coraggio e la forza che mi aveva trasmesso la mamma però ero piccola per capirla essere donna posso dire adesso riderete tutti però secondo me un problema comune che mi trovo molto in difficoltà la donna mi trovo molto più in difficoltà in occidente perché noi donne in occidente veniamo dichiarati liberi nonostante che non siamo liberi e manticipati si dice se termine giusto e in realtà ci rubano il diritto e la libertà sotto sotto nome del modernismo consumismo e tutte queste cose e noi donne in occidente non siamo liberi la piccola differenza è che qua non c'è il bastone in testa quindi non sentiamo manco il bisogno di ribellarci ad esempio in Italia tutti dicono che aborto è un diritto non è vietato però un posto come Torino solo un ospedale è un medico concede il diritto di aborto perché tutti gli altri sono obiettori di cosciente perché in Italia l'aborto non è vietato la burocrazia italiana che parlavamo all'inizio non è niente vietato niente fuori il sistema del democratico però in realtà quando vai in pratica è tutto tutto difficoltosa quindi da donna ovvio che ogni angolo della vita trovo la difficoltà nel posto di lavoro il maschio ti guadagna più di me nonostante che faccio stesso lavoro in una scuola istituzionale della Repubblica Italiana due insegnanti stessa materia la donna guadagna meno dal maschio cioè purtroppo noi donne in qualsiasi momento della vita troviamo le difficoltà dalla politica alla quotidianità anche un semplice esempio da donna di andare in un posto pubblico è andare in bagno comunque un difficoltà per noi donne perché è tutto pensato in un sistema così maschilista tutto pensato a comodità di maschio e proprio per questo nel movimento delle donne kurde nasce una scienza che noi chiamiamo genologie dove studia torna alla natura e dà una lettura alla storia dalla società naturale ad oggi con un sguardo di donna se noi donne avremmo scritto la storia come sarebbe successo quindi studiamo ogni forma socialismo il comunismo il capitalismo i religioni la filosofia tutte queste cose hanno una lettura del maschio e questa scienza delle donne sta studiando tutte queste cose che ci ha portato ad oggi dalla società naturale ad oggi che ci ha portato con un sguardo di maschio con una lettura di maschio e noi adesso vogliamo rivedere la storia tornare alla nostra natura ad arrivare oggi per capire dove è stata veramente la rottura perché la difficoltà di essere donna io da donna singola per me personalmente posso dire io non ho più le difficoltà perché le difficoltà più grosse se l'ho superato sia da donna che da essere vivente in questo sistema però se devo applicare nell'ampio e nella società perché la società non fatta da me allora anche il respiro tante volte per noi donne è difficoltoso io non credo che donne di una paese sono meno liberi dai altri paesi le forme cambiano però noi donne siamo sottomessi dappertutto dalla religione alla filosofia dallo stato-nazione quindi le donne vengono come si può dire trattati come come secondo classe di qualcosa non so non so come definire col mio l'italiano perché io l'italiano non parlo bene mi spiego molto bene l'italiano però non parlo bene quindi tante volte parole mi mancano noi donne in questa società piramidale veniamo messi sotto di qualsiasi forma e questa è la difficoltà di donne ecco parola esatta la difficoltà di donne essere esistenza la nostra difficoltà è la esistenza posso dire così con il mio italiano Anna nel lavoro che ho fatto devo dire che non ho trovato particolare se vogliamo parlare di me perché se no se dobbiamo parlare delle donne con cui ho lavorato perché un altro diciamo così un altro filo che ha unito tutti i progetti nostri è quello della parità della donna e uomo dell'equità di genero si diceva però ecco da parte mia non ho trovato anche se ho lavorato con tantissimi contadini col tiratore di caffè allevatori di di lama alpa alpaca eccetera eccetera ho sempre visto che mi hanno sempre accettata bene anche perché credo che il nostro modo di lavorare non era quello di rompere di dire noi abbiamo qualcosa di insegnarvi da insegnarvi no e quindi questo mettersi accanto e trovare insieme a loro delle soluzioni ai problemi che loro incontravano io non ho incontrato questo questo rifiuto no da parte loro e credo che una parola che volevo dire poi me l'ha rubata esel che è proprio quello di dire il diritto ad esistere delle donne anche noi abbiamo lottato tanto e continuiamo a lottare perché gli ultimi progetti sono interamente quasi con le donne le donne artigiane le donne artiste io che amo perché sono delle vere artiste quando sono di fronte a quei telai dove loro fanno le cose senza neppure avere un disegno un modello perché il modello il disegno ce l'hanno tutto in testa e riproducono per loro la tessitura è un linguaggio è un modo di trasmettere ciò che sono ciò che hanno ciò che sanno e quindi direi che da parte mia sinceramente ho imparato magari di più a essere donna perché ho visto tante ingiustizie anche dalla parte loro c'è anche etzel domande avete altre domande perplessità poi avete domande fra di voi etzel hai domande per la sala per le presentatrici io ho una ho una che mi voglio me voglio auto coinvolgere posso direttore un minutino sono le 07 abbiamo parlato informalmente fuori al telefono eccetera quando ci siamo visti per preparare la serata e avevo detto se non vi capitava io invito invito questa domanda alla sala se non vi capita di c'è l'immagine che noi abbiamo con noi stessi della nostra scelta del nostro percorso della nostra trasformazione e l'immagine che si fa lì fuori tutta la gente che ci accompagna su di noi no? credo che l'avremmo parlato al telefono etzel anche con te mi pare giusto? la domanda è anche per il pubblico vi è capitato e cosa succede fra un po' l'hai detto tu Marzia il bucolico da fuori no? cioè la gente si dice ah fa cooperazione in Bolivia ah etzel che brava perché kurda poi in Europa qua in Occidente a me hanno detto ah in Amazzonia poi a 4400 metri nelle Ante cioè abbiamo parlato di questo cosa ne pensate di quello che pensano di noi e noi di noi stessi che a volte coincide o non coincide come è stata vi è capitato di sentire la gente che dice ah oppure che non coincide con quello che noi pensiamo che stiamo facendo no? se posso iniziare io appunto ne abbiamo parlato perché anche forse un po' il fatto che io sono qua questa sera è già una risposta nel senso che perché sono qua me lo chiedo anch'io nel senso che la mia storia non è sicuramente la storia di Anna la storia di Etzel io non mi sento di aver fatto niente di speciale eppure mi accorgo che per tanti lo è mi è capitato ho rifiutato di partecipare a delle trasmissioni televisive sono andata dove appunto avevano un reale interesse a raccontare quello che facevo e però alla fine non è venuto fuori quello che volevo dire perché appunto io volevo dire come il mio il senso di quello che faccio è anche di mantenere vivo un territorio perché secondo me allevare in montagna vuol dire mantenere vivo un territorio un paesaggio che altrimenti va perso e insieme al territorio del paesaggio va perso una cultura vanno perso delle conoscenze vanno perso dei saperi che si sono tramandati fino ad ora io li ho acquisiti perché non erano i miei non provengo direttamente da questo mondo ma li ho acquisiti e spero in qualche modo di riuscire a comunicarli e invece quello che dal di fuori si vede sempre è l'aspetto bucolico l'aspetto romantico come dicevo prima e mi è capitato appunto di rifiutare una partecipazione che magari a livello di immagine poteva anche essere utile per farmi pubblicità ma non era quello che mi interessava perché volevano che raccontassi la favoletta mi sono innamorata di un allevatore in montagna e sono andata a vivere lì e adesso che bello faccio Heidi non è quello il senso eppure quello che vuole passare i nostri media a quello a cui interessa è questa storia metà tra il romantico sentimentale la favoletta come per forza non poteva esserci altro dietro che non questo la storia d'amore e il bel posto e le caprette che fanno paesaggio e purtroppo il più delle volte diciamo così la visione generale è quella chi vuole andare a grattare più in profondità a scavare cercare veramente il significato di quello che faccio purtroppo sono una minoranza Ezel Anna vi è capitato vi capita sì infatti perché anche prima prima tu stessa eh no non racconto quello hai detto però esatto però voglio dire ma io credo che siccome la Valle d'Aosta è piccola e noi siamo partiti in un'epoca in cui poca gente partiva probabilmente abbiamo fatto un po' di storia ma non ci siamo mai pensati perlomeno io mi sono pensato una persona comune che ha certi ideali che fa certe cose che è interessante a volte conoscere altre realtà perché queste altre realtà ti danno ricchezza ti fanno aprire gli occhi ti fanno cambiare certi modi magari di pensare anche a sul del mondo o alla gente perché le sentiamo sempre solo o leggendo o attraverso la televisione eccetera quindi andare di persona era un'altra cosa ma io l'ho sempre vista come una cosa molto normale come vi ho detto anche quello di portare i figli dove gli altri ma chi ha mai visto invece per noi è stato molto normale e credo che anche per loro che l'hanno vissuto con noi quindi e credo che quello che qualcuno magari pensa è perché eravamo un po' gli unici adesso sono tantissimi invece che partono e che vanno magari per altre motivazioni perché ormai la cooperazione è diventata un'altra cosa non è più una scelta per noi è stata proprio una scelta di vita ma la vita è qua e là voglio dire non fa non fa differenza anche qui siamo così come eravamo di là un po' più ricchi come tutti penso Ezzel ti è capitato? sì sì ma non lo so forse perché tante volte noi donne kurde veniamo definiti guerrieri eroi tutte queste cose e mi capita spesso che io come fosse non c'è diritto di stare male quando sto male la gente dice ma stai male? come mai? cioè io come fosse non sono non posso stancarmi ma queste cose anche delle persone che siano molto vicini a me no? anche nelle piccole battute ma va hai fatto la guerra adesso hai mal di testa cioè perché tante volte vieni dimenticata che sono fatta di sangue di carne e sono un organismo biologico come tutti gli altri e che ne so magari facciamo una camminata mi stanco mi stanco perché mi stanco ma come ti stanchi ma come no? cioè tutte queste cose che a me lì per lì mi lasciano senza parola in modo boh cioè casco da come una pera dall'albero davanti a queste domande poi prendo a sorridere no? dico quando ti senti in difficoltà esce fuori il coraggio è la forza che non te la senti normalmente adesso non c'è la guara sto nella comodità e mi godo la comodità quindi sono stanca sì mi capita spesso perché forse gente quando pensano o sentono qualcosa un po' più grosso o che li tira attenzione allora quelle persone vengono come fosse un idol e idol non devono essere stanchi non devono morire non devono sbagliare non devono essere triste no? come come la mia idol che il mio babbo è mia madre che io non accetto che loro stanno male non accetto che loro sono stanchi non accetto che sono anziani nonostante rendo conto che sì sono fatti come me però io non accetto quindi penso così e prendo prendo ormai prendo a sorridere questa cosa perché a me capita tantissimo soprattutto un'altra cosa che mi è capitato tantissimo in Italia i maschi sono molto affascinati dalla carisma di una donna combattente no? io sono molto molto diretta possiamo dire che sono anche stronsa perché ho avuto tantissime serate in Italia a qualsiasi posto anche fuori Italia e quando qualcuno accominciava dopo questa serata a scrivermi io dicevo guarda che sei affascinata dalla mia carisma di essere un combattente niente altro no? uno di questo ora tuttora è mio compagno da tre anni che stiamo insieme uno di questo era loro e un giorno però lui è stato quello coraggioso forse mi ha fregato per questo perché prima ora non ho mai accettato di vedermi con nessuno mi ha detto senti un po' basta fare finta di essere straniera a me non mi importa né il tuo popolo né la tua storia a me mi importa conoscere a te e che perché è vero perché è che succede tante volte no? sei guerrigliera c'è sto carisma come fosse non sei qualsiasi altra persona quando sono uguale identica a loro cioè se casco per terra mi fa male anche a me i piedi a me mi capitano queste cose quindi no io non devo star male io non devo essere triste io non posso stancarmi non posso usar la medicina e non ho bisogno di dormire l'ho fatto la guerra non devo avere la paura dei insetti tutte stronzate che non ho diritto di dire che anche io i insetti mi fanno schifo la testa mi fa male io c'ho paura di aghi ad esempio ancora non mi sono vaccinato perché sono agofobica e tutti mi prendono in giro ma combattevi usavi le armi i proiettili ma l'ago ti fa paura sì questo è una fobia non è preferisco che mi fanno il vaccino con un pistola mi sparano d'osto cioè in senso non so come dire non accettano che io abbia i malattia o problemi comuni non malattia i problemi comuni io non posso avere non ho diritto di avere problemi comuni purtroppo e questo mi mette in difficoltà bellissimo quanto insegnamento grazie ancora e abbiamo ancora il direttore ci sta guardando sono 18 minuti passate le 10 non so se l'ho detto in modo inglese abbiamo domande non si potrebbe restare qua a fare domande tu e c'è altre domande per noi per la sala no io vi ringrazio che mi avete sopportato soprattutto questo percorso di portarmi a collegarmi il primo mio conferenza online perché non ho mai accettato prima di ora quindi vi ringrazio per la pazienza soprattutto no grazie a tutti voi grazie grazie di nuovo alla biblioteca per l'invito credo che possiamo tornare a casa con tanti pensieri tante riflessioni e sicuramente a me cioè l'ho studiato anche nella teoria la trasformazione l'adattamento no questa capacità umana incredibile e trovare questo filo conduttore anche se abbiamo visto delle vite e delle esperienze completamente diverse anche geograficamente culturalmente c'è questo filo conduttore della resilienza della capacità di adattarsi di trasformarsi quindi credo che quello sia già abbastanza ingredienti per poter portarci a casa e continuare a crescere grazie ancora buona serata grazie Esel grazie a voi buona serata grazie a tutti grazie 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 tecnici